Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come È finalmente stata svelata la data di inizio dell'isola dei famosi 2023, la notizia adesso è ufficiale, manca pochissimo Il grande fratello Vip continua ad essere il reality che appassiona di più gli italiani, eppure c'è chi non vede l'ora di poter rivedere sul piccolo schermo Ilari Blasi al timone dell'isola dei famosi Dopo il puttiferio scatenatosi in estate in seguito all'annuncio della fine del suo matrimonio, la conduttrice romana torna in tv con l'adventure reality, pronta a mettere ancora di più tutti d'accordo Per questa nuova edizione, la squadra dell'isola dei famosi ha pensato a qualcosa di straordinario Al timone, come dicevamo, è stata confermata Ilari Blasi per la terza volta consecutiva Al suo fianco, stando a quanto si apprende, sembrerebbe esserci ancora Vladimir Luxuria e, per la prima volta in assoluto, Enrico Papi Ancora avvolto in un aloni di mistero, invece, il nome dell'inviato Pare, infatti, che non sarà più Alvin a rivestire questo ruolo, ma qualcun altro di cui non è stato ancora svelato granché Tutto è pronto per l'isola dei famosi 2023 ma in attesa di scoprire chi saranno i naufraghi che partiranno, il pubblico di Canale 5 non vede l'ora di sapere per quando è prevista la data d'inizio Qualche giorno fa, è arrivata la notizia ufficiale, allacciate le cinture, manca davvero pochissimo Svelata la data di inizio dell'isola dei famosi 2023, è ufficiale Se pensavate che le sorprese del palinsesto Mediaset fossero finite con il ritorno in onda di Temptation Island, vi sbagliavate di grosso Confermata per l'ottavo anno consecutivo su Canale 5, l'isola dei famosi è pronto a ritornare in onda con delle imperdibili sorprese Siete curiosi, però, di sapere per quando è prevista la sua prima puntata? A lanciare la clamorosa indiscrezione sulla data d'inizio di questa diciassettesima edizione dell'Adventure Reality, è stato proprio TV Blog Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che Ilari Blasi tornerà al timone del programma a partire dalle prime settimane di aprile Ed, in particolare, lunedì 17 aprile Inizialmente, in realtà, si credeva che il reality potesse partire circa sette giorni prima di questa data, ma, essendo un giorno di festa, è il cosiddetto lunedì in Albis I vertici Mediaset hanno scelto di posticipare la partenza ad una settimana dopo La notizia, da come si può chiaramente comprendere, fa parecchio scalpore non solo perché indica con certezza la data di inizio dell'Isola dei Famosi, ma anche perché fa capire quando potrebbe giungere al termine questa settima edizione del Grande Fratello VIP Facendoci un po' due conti, infatti, sembrerebbe che il reality di Canale 5 potrebbe andare in onda fino agli inizi di aprile E solo dopo aver eletto il suo vincitore potrebbe passare il timone ad Ilari Blasi ogni lunedì sera per circa 10 settimane Chi sono i primi concorrenti? L'indiscrezione.Non solo la data di inizio ufficiale, in queste ultime ore, è spuntato anche il nome della prima naufraga Stando ad una clamorosa indiscrezione lanciata da TV Blog, sembrerebbe che tra le concorrenti di questa nuova edizione dell'Isola dei Famosi ci siano proprio loro Sì, a quanto pare saranno proprio Pamela Camassa e Cristina Scuccia le prime naufraghe annunciata di questa edizione dell'Adventure Reality di Canale 5 Ex modella ed amatissimo personaggio TV, la compagna di Filippo Bisciglia potrebbe vestire per la prima volta i panni da naufraga, partendo per l'Honduras Proprio come l'ex volt di X Factor, che, dopo aver fatto chiacchierare tutti per la sua decisione di lasciare la vita da sua ora, potrebbe compiere a tutti gli effetti il suo debutto in TV Ad oggi, ovviamente, non c'è dato sapere granché sull'indiscrezione e ne è stato possibile sapere qualcosa direttamente dalle dirette interessate Possiamo, però, affermarvi che questa notizia ha già fatto impazzire tutti di gioia Cosa ne pensate voi? Vi piacerebbe vedere Pamela Camassa e Cristina Scuccia all'Isola dei Famosi? A noi sì, tantissimo Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me Arrivederci, al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti